Dalla critica alla proposta, i quattro gruppi di minoranza del Consiglio Comunale di Bassano lanciano una sfida alla giunta di Elena Pavan e la sua maggioranza. Bassano deve volare più in alto. Di fronte all'immobilismo, alla mancanza totale di visione da parte della sindaca Elena Pavan, facciamo un passo in avanti. Iniziamo a dire cosa concretamente si può fare e quali sono le visioni sulle quali ci possiamo confrontare, si può discutere. Sono tre gli ambiti strategici individuati per rilanciare la vita della città, a cominciare dall'uso di alcuni palazzi del centro. Il trasferimento degli uffici dell'Inps nella parte ristrutturata di Palazzo Pretorio, c'era già un contratto pronto alla firma un anno e mezzo fa, di proseguire con la destinazione di Palazzo Cerato Bellavitis in Via Verci, vecchio di Cebrocchi per intenderci, all'Agenzia delle Entrate. Anche qui gli accordi hanno in fase molto avanzata. Cosa è stato fatto in quest'anno e mezzo per la battaglia sul Tribunale della Pedemontana Veneta? Determinanti per la vita e la vitalità del centro storico sono le scuole. La scuola Mazzini è la scuola ideale perché è la scuola della città dal 1910, la scuola di tutti quanti i bassanesi. Per quanto riguarda la Vittorelli, auspichiamo che venga trovata una ricollocazione sempre nell'ambito culturale, magari per scuole associative oppure per servizi che possono servire ai giardini parolini che ne hanno bisogno. Anche sul capitolo cultura le minoranze hanno qualcosa da dire, lamentando assenza di progettualità. Non sappiamo niente della Casa della Musica, non sappiamo niente del Teatro Astra, non sappiamo più niente del Polo Museale Santa Chiara, al di là del fatto che hanno fatto delle consulenze di persone che probabilmente hanno una conoscenza della città anche relativa. Vedremo quello che succede, ma al momento siamo a meno che l'anno zero.